Perché ride, Azzaro? Non rido per non piangere. Rido per non piangere perché è un fallimento, un insuccesso, ma è anche veramente una situazione paradossale, perché tutto era fatto proprio per rendere efficiente un sistema, che poi è un sistema disumano, parliamoci chiaro. Vengono deportati lì e neanche funziona, quindi con dei costi incredibili per la comunità tutta, senza risolvere il problema. Non è un fallimento, è di più, è proprio una situazione che non ho... Lascia senza parola, io sono veramente incredula. Sì, già parlando di deportazione, rende il tuo discorso vano. Cioè la premessa rende quello che tu dici dopo assolutamente dentro. Allora, c'è, è impomettabile, perché... Arrivo subito da te, però, con la nostra... Con la nostra Ludovica Ciriello, c'è una plenipotenzione, una, diciamo, prima...